eccoci qua di all'ora della stesa pronti ho già ceduto la parte oggi riducendo sono i video di attento sono i video di rinascimento re d'aria esperto in parziale rispettato regina d'aria dell'antico e competente divertente asso di terra e opportunità e risorse per adesso soffrendiamoci sul muro e vado subito a vedere l'asso di terra è l'inizio di una fantastica nuova avventura sarai sommerso da risorse inaspettate che ti permetteranno di cominciare nel migliore dei modi messaggi degli angeli le notizie sono ottene stiamo festeggiando insieme a te se hai bisogno dell'aiuto di qualcuno siamo eletti di metterti in contatto con le persone giuste possiamo assisterti anche se ti serve l'aiuto con la forza di volontà per quanto riguarda il perseguimento risolto ai piedi e con la forza di scena la regina d'aria situazioni fuori il vecchio dentro il nuovo è ora di dare una vigilita a tutti gli aspetti della tua vita che sono inutili al tuo scopo esistenziale se il tuo spazio è in ombra disorganizzato metti in ordine il nostro consiglio arrivi proprio così trova l'aspetto divertente di qualsiasi situazione e riusci su sei competente saggio e incapace puoi fare qualunque cosa e lasciarti influenzare dalle situazioni difficili per le persone negativi ed infine a rete e aria ti sarà chiesto di essere un portavoce della causa che ti sta più a cuore quel che hai da dire è importante e deve essere ascoltato non preoccuparti i tuoi angeli ti suggeriranno le parole adatte in ogni situazione se chiedi il loro aiuto messaggio degli angeli molti apprezzano la tua saggezza e l'intelligenza in Italia ricordati che a volte le persone hanno una visione emotiva dei fatti se metti un po' di cuore nei tuoi gesti consigli qui sarà ancora qui per il frutto ora è arrivato il momento di vogliere la maschera e passarlo così c'è molto che è buco ancora per fare ma ci va non ci sarà presto spero che è buco che è buco Grazie. 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 Grazie.